Ecco, oggi, buongiorno, oggi è uno di quei giorni che mi viene di, chissà perché, di pensare a Lucio, a Lucio Dalla. Oggi è uno di quei giorni che mi piacerebbe che Lucio ci fosse per sentire che cosa ne pensa di quello che ci sta succedendo, con una delle sue folgoranti immagini, come sempre, che aveva. Ma parlando di Lucio è difficile per tutti, tutti dicono che erano suoi amici. Essere amici di Lucio Dalla non era facile e non so neanche se io ero un suo amico. Non sono quello che si vanta, ma io ero amico. No, era un conoscente abbastanza vicino. Di certo è che di Lucio si può parlare al presente. È una delle persone di cui è difficile parlare al passato, perché l'idea è una di quelle figure a cui non riesci ad abbinare l'idea della morte. Cioè, mi spiego, non è facile. Quando si dice sei anni o sette anni senza Lucio, in realtà c'è stato più in questi anni forse quasi che prima. E quindi se ne parla al presente, perché è come se ci fosse sempre. Io alle persone che conosco, delle volte cerco di vedere se sono d'accordo con me in questa cosa. E tutti sono d'accordo con me, quelli che l'hanno conosciuto da vicino. Vi assicuro, se noi domattina o dopodomani, quando si potrà uscire, non lo so, lo incontrassimo in un bambino di Piazza Cavuro, del centro, che beve un caffè, è assurdo quello che dico. Non ci meraviglierebbo più di tanto, veramente. Perché chi l'ha conosciuto ti verrebbe da dire, ma che cazzo hai fatto? Ma non faremmo quella faccia strabiliata che avremmo se vedessimo una persona che torna dopo essere morta. No, è come un esserci sempre. Io ho fatto un capitolo di Punto Com, il mio libro proprio dedicato a lui e tra l'altro Ambrogio Lo Giudice, regista dei suoi clip, una volta mi ha detto che il ritratto più bello forse è fatto di Lucio, ma non lo so. L'ho fatto perché, come adesso mi viene di parlarne, è uno che ha cambiato la mia vita. Io a un certo punto facevo, lavoravo a Repubblica, facevo il giornalista, l'avevo conosciuto anche prima quando lavoravo a stadio, perché lui andava a prendere stadio con gli stadio, all'edicola di Angolo via Ugobassi e via Marconi, e vedendo la testata stadio, gli viene in mente di chiamare questo gruppo gli stadio, perché questa bella testata verde, e mi ricordo che mi contattarono e io andai in vicolo Marescotti, dove abitava Lucio, a parlare del fatto che poteva chiedere al giornale, appunto, che poi glielo diede, infatti gli stadio all'inizio avevano questo logo. Quindi lo conoscevo già come Repubblica, lavoravo a Repubblica, a un certo punto Repubblica non usciva a lunedì, poi io ero un giornalista sportivo, quindi uscendo a lunedì Scalfari mi disse, mi diede un out-out, mi disse o la televisione o il giornale. Io facevo già Galagor su Telemonte Carlo e non sapevo cosa fare, cioè lasciare una strada vecchia per la nuova. Mi ricordo che Lucio me la risorse con una delle sue folgoranti immagini, una vigilia di Natale, ci sentimmo al telefono e mi disse, guarda, come stai? Io dico, bene, però ho questo problema che non so cosa decidere. E lui mi disse, beh, è come se ti avesse detto vuoi mangiare tre chili di pomodori o volare? Te devi dire volo e basta. E poi ha cambiato discorso, ma vi giuro che quella frase lì, dopo mi è tintinnata nella testa e due giorni dopo mi sono licenziato e sono andato a fare il contrario dei tre chili di pomodori che diceva lui. Però io e Dalla abbiamo avuto un rapporto anche di lavoro, poi abbiamo fatto Taxi, che era un programma bellissimo, dove mi faceva guidare un taxi e mi chiedeva di fare la faccia da De Niro, dove portavo un artista da Riccione ai magazzini del sale di Cervia, a Arbore, a Morandi, fantastico, era un bellissimo programma. In quel periodo ci inventammo una cosa folle, io e Lucio, che abbiamo continuato a fare fino a pochi mesi prima che lui se ne andasse, stilare e aggiornare ogni mese una classifica personalissima, ovviamente, dei cinque più grandi imbecilli di Bologna. E l'aggiornavamo sempre, ecco, ovviamente irrivelabile, cioè per decoro, per rispetto e per pudore, nonostante trattasi comunque di imbecilli. Intanto comunque parlando sempre al singolare, Lucio è a Bologna nelle sue radici, nei suoi portici, nelle sue piazze, nei rumori sui tetti che ascoltava da piccolo, dagli abbaini della casa di Piazza Cavour, immaginando i discorsi della gente, fiuttando gli odori dei mangiari, come diceva lui. Un cittadino del centro, dei colli, dei tetti, del cielo, allo stesso tempo, cioè l'ommaggio migliore che gli si può tributare forse è provare a parlarne proprio al presente, credo. La prima volta, un uomo comunque visionario, contraddittorio, quando fece uno spettacolo Calciobalilla, mi ricordo, al Testoni, piombò all'intervallo nei camerini dicendo è un capolavoro, dobbiamo portarlo a New York. Dico, ma sì, è bellissimo. E venne tutte le sere, perché lui andava poi tutte le sere a vedere lo spettacolo, si innamorava di una cosa, portando Barbarossa, Campiotti, Labaraldi, venne con un sacco di gente, come lo incontravo tutte le volte a vedere Slava Snow Show al Duse, per una settimana, tutte le sere, era lì a vedere lo spettacolo, perché si innamorava. Un uomo anomalo, selvatico, raffinatissimo allo stesso tempo, ma con la sensibilità di chi ha sofferto, di chi ha messo un bel po' di tempo prima di trovare l'apertura di un panorama. Cioè uno che per dire lo invitavi a cena, tanto per dire lui usciva di casa per venire da te, passava di fianco a un cinema, vedeva un bel film, entrava e ti faceva un bidone. Allora tu ti incazzavi e lo potevi mandare anche tranquillamente a fanculo, ma era fatto così, perché lui stesso poi diceva che era il più grande ballista della storia, perché raccontava delle balle talmente incredibili che poi diventavano verità. Quindi non si capiva più dov'era la verità. Me lo ricordo per i suoi mitici microsonni, era famoso per i suoi mitici, è famoso, scusate, bisogna parlare al presente, di dormire tre minuti, due minuti, anche in sala d'incisione dove capita. Una volta era in sala d'incisione, dormiva, stava incidendo, ero lì, non so, l'abbiamo arrivato a trovare. A un certo punto mette un dito su, stop, stop, qui c'è il basso che cala. Ma stava dormendo. E tutti, ma che è il basso che cala, Lucio? No, assolutamente, no, no, qui c'è il basso che cala. Andavano a vedere, c'era il basso che calava, perché l'aveva un orecchio. Poi aveva fatto installare uno dei primi maxi schermi nella casa di Via d'Aseglio, dove nella stanza dei giochi, con le seggioline, alla domenica si andava a vedere il Bolognetto, sul grande tifoso del Bologna, andavamo insieme, faceva le convocazioni, vieni a vedere la Parta? E lì si rispondeva di sì, c'era Tobia, c'erano i fratelli Fenara, Villotti, il cugino Andrea, Beppe la Rosa, Carlone Avoni, tutti fedelissimi. Lucio è fatto così, è sempre stato così, molto strano, un enigma, tante cose insieme, buono, cattivo, bugiardo, generoso, sano, malsano, geniale, malefico, irresistibile, trassognato, stralunato, uno col quale non riuscivi a venirci a capo, non so, la verità non sta da nessuna parte, l'impressione è che non ci sia proprio, un giorno ti incontrava per stare, faceva una festa pazzesca e l'altra volta non ti saluta neanche perché ha un tiramento di culo, congenito nel suo DNA, uno che vive di profumi, uno che viveva di profumi, io non so se parla presente o al passato, faccio fatica, si innamorava di colpo di uno sentendo un profumo, ma di qualsiasi persona, maschio o femmina, non c'era. Un giorno alla Fiera del Libro del Bologna passò di fianco a un ragazzo e gli disse tu lavorerai con me senza conoscerlo e questo era Stefano Cigarini che poi diventò il responsabile della Pressing, la sua edizione musicale, perché dice che sapeva di cartoleria, l'ho scelto perché sapeva di cartoleria. Allora quanti l'hanno odiato, quanti l'hanno amato, qualcuno lo voleva anche uccidere fisicamente perché faceva anche delle rovacce, quindi mi veniva da ridere il concertone quando fecero il concertone in Piazza Maggiore dopo la sua geniale sparizione, gente, colleghi che parlavano mirabolanti di dichiarazioni d'amore, ma come? Lo volevi uccidere? Me lo ricordo bene. Con Taxi mi ricordo cose indimenticabili, le puntate di Taxi, lui e Morandi discutevano, mi ricordo, in una riunione, erano soliti discutere molto, c'era un grande amore e odio tra di loro, grande confidenza maturata degli anni, Lucio sostiene che Morandi è Robocop come fosse un oggetto spaziale e in una pausa di una discussione mi fa, Lucio, ma senti, tieni presente comunque che se io e te una notte andiamo a fare due passi in Piazza Maggiore e troviamo Morandi che strana sei piccioni, non dobbiamo mica meravigliarci. Sono cose che mi ha sempre fatto molto ridere, le sue immagini folgoranti, un'altra volta a New York ero là per la festa dei gemelli, lui era con Samuele Bersani per girare un clip, siamo andati in un ristorante pieno, bella gente, ci sediamo, a un certo punto Lucio mi si avvicina all'orecchio e fa pensasi io adesso facessi una scoreggia e se questa scoreggia cominciasse a volare per tutto il locale sfiorando la testa della gente e poi si mettesse su quel lampadario là, guardasse giù e facesse una gran ghignata. Tu lo guardavi e dici ma che cazzo dici? Poi si rimetteva a parlare con altri. Insomma aveva questa casa dove sono stato a Milo sulle penici dell'Etna che l'aveva fatta di fianco a quella di Battiato per farlo incazzare, Battiato si era messa là per stare da solo, Lucio gliel'ha costruita di fianco, quasi per dispetto come dire, tomò e poi faceva questo vino che si chiamava lo stronzetto dell'Etna. Insomma che cosa ci si ricorda? Ci si ricorda che, vabbè usiamo l'imperfetto, che era matto, che era saggio, che era stronzo, che era stralunato, che era geloso, che era generoso, che era buffo, che era uno stranissimo tipo di cartone animato che nessun Walt Disney avrebbe mai inventato. I racconti del suo grande rapporto con padre Pio, che lo mandava via insultandolo, non gli dava la soluzione fino all'ultimo giorno. Le sue solitudini su un flipper di Via delle Fragole, mentre ci sono due che decidono andare a ballare il sabato sera, quante stelle nei flipper, ci sono più di un miliardo. Correre su in casa, scrivere di getto quella canzone, il bidone che fa Kate Jarrett non andando all'appuntamento che gli aveva dato, il duetto con Petrucciani suonando il clarino, con Petrucciani che a primo contatto sospetta che questo non sappia suonare, perché era geniale con questo clarino. Quello lì non sa mica suonare, disse al manager. La volta che Pupiavati tenta di soffocarlo da dietro, l'istinto di spingerlo giù da un balcone della Sagrada Famiglia, perché era geloso, perché suonava il clarino meglio di lui. I suoi interventi a sorpresa, suonare nella cantina del Dottor Dixi. La volta che si offese, perché l'Angela Baraldi gli dice che rompeva i coglioni e sembrava Lavanoni. Sembra Lavanoni, cioè lui se l'è preso un casino. I suoi tornei nel campetto di Gaibola, terra di Gaibola, sui colli. Destra contro sinistra, lui nella squadra dei Tupamaros o del Vento dell'Est, poi cambiò il nome, i Sodomiti si chiamavano, giocavano sei contro sei, sette contro sette. Il suo orgoglio nel sentirsi, nel definirsi campione mondiale di Lumini, cioè di essere quello che sputtava più lontano, ecco perché poi sul campanello aveva messo il comandatore Domenico Sputo. La sua venerazione per Pascutti, per il modo di andare in gol di questo giocatore come se facesse una pernacchia al mondo. I suoi tre parrucchini in testa, le sue uscite a fare due passi con quello nero, gli occhiali da vista e l'abito da prete che non lo riconosce nessuno. Uno dei tre parrucchini era la coppia esatta dei suoi capelli, aveva il parrucchino ma era uguale. I suoi microsoni allo stadio quando il Bologna faceva schifo, la sua casa da pazzi, la nostra classifica degli imbecilli, insomma la sua folgorazione per il gobo di Notre Dame con conseguente mania del musical, i suoi innamoramenti, la gramigna da Cesare nel tavolo in fondo, il fatto di non essere busone come tutti dicevano, luogo comune, riduttivissimo, non esisteva, era un'altra cosa, era uno oltre, era uno al di là, Lucio, del problema, più avanti con una sensualità unica e complicatissima verso qualsiasi cosa, non necessariamente uomini e donne, il suo ronzare intorno alla città, il suo amarla da morire, il suo capirla come nessuno. Ecco, fino alla volta in cui poi ci siamo trovati tutti un 4 marzo in un piazza a sentire le sue canzoni in uno strano e assurdo funerale che sembrava quasi una balla, come quelle che raccontava lui. Grande, oggi era il suo giorno, l'ho voluto ricordare. Buona giornata a tutti. Grazie.